Benvenuti in questa nuova controrassegna stampa delle notizie non diffuse in Italia dai media euro-atlantisti. Iniziamo alla notizia del titolo. Circa 50, quindi una cinquantina, tra istruttori e mercenari occidentali, soprattutto del gruppo Ramstein, paesi Nato, dei 32, eliminati dall'esercito russo di Valery Gerasimov. Quindi occidentali, militari, veterani, volontari, che in maniera illegale, senza gli emblemi nazionali delle loro nazioni d'origine, vanno a combattere dal lato ucraino. E' stato distrutto nell'oblast regione di Kharkiv un centro temporaneo che li ospitava. A riferirlo il ministero della difesa russo, il portavoce Konashenkov e il ministro Andrei Belousov. Quindi un colpo messo a segno dai russi con un sistema missilistico molto famoso ormai di produzione sempre in Moskhead Intoniskander M su una base temporanea nella cittadina, vicino alla cittadina comune di Derkaci, un paesino nel nord-est dell'Ucraina del 91, una zona confinante, come sappiamo ormai bene, con la zona di Belgrad nella Russia del 91. Il ministero del Cremlino ha anche condiviso un video dell'accaduto registrato con un drone russo, come succede in questi casi più velivoli, più missili, più dispositivi in aria. Durante un attacco di questo tipo, strategico molto importante per l'aiuto occidentale soprattutto alle AFU-Ucraine di Kiev. Secondo quanto riportato a diversi politici russi, ma anche da Riano Vosti, quindi all'agenzia stampa, un medium di informazione di Mosca, gli occidentali sempre di più stanno attivamente prendendo parte alle operazioni militari in Ucraina, non ufficialmente, ufficiosamente, quindi senza gli emblemi, quello che abbiamo detto all'inizio. Il ministero della difesa di Belasov ha già raccontato nelle ultime settimane come diversi mercenari istruttori, senza le efigie, quindi dei paesi origini, statunitensi, del Regno Unito, quindi inglesi soprattutto, georgiani e altri paesi, non solo NATO, ma dell'Occidente allargato, stanno morendo proprio in queste operazioni dal lato di Kiev, quindi combattendo contro i russi. I mercenari, ricordiamolo, non sono coperti dallo status di prigioniero di guerra in caso di cattura, non rientrano nelle categorie protette, per esempio, dagli accordi di Ginevra internazionale, dal diritto internazionale, come invece rientrano ovviamente i soldati ucraini, ufficialmente con gli emblemi nazionali. Più di 13.000 sarebbero, secondo le fonti russo-ufficiali, i mercenari arrivati a Kiev dall'inizio di questa fase internazionale della guerra, due anni quasi in mezzo a questa parte, di cui circa 6.000 sarebbero già stati eliminati dalle forze armate del Cremlino. Possiamo vedere anche il video dell'accaduto, dell'esplosione, quello che abbiamo raccontato negli ultimi minuti. Ci sono altri particolari diffusi da Oro Sirec, testata filo russa in lingua ungherese, in rete. Il mese scorso, quindi a giugno, Dmitri Piescoffi, il portavoce del Cremlino, aveva minacciato, ammonito la Francia di Macron che puntava, prevedeva almeno così ufficiosamente l'invio di soldati in Ucraina, non a combattere nelle prime linee, ma praticamente nelle seconde linee, ad aiutare qua a di uvare le AFU di Sirsky. Piescoffi aveva detto, tutti quegli istruttori militari francesi non hanno, ha ricordato che non hanno assolutamente difesa, non sono tutelati dal diritto internazionale, non importa se francesi, spagnoli, inglesi o chissà di quale nazione, cittadini di quale paese. L'SVR, Servizi di Sicurezza Esteri Russi, Federali Russi, hanno più e più volte detto ufficialmente che l'esercito francese ha sempre più preoccupazioni per il numero crescente di soldati francesi che muoiono in Ucraina al fianco delle AFU. A gennaio, sempre nella zona di Archifo, Kharkov, nel nord-est dell'Ucraina, nel 91, ha stato distrutto un altro centro temporaneo base per mercenari stranieri, uccise da qualcosa come una dozzina di mercenari francesi. E da qui il commento di Piescoff detto prima. Ringrazio Dante per il sostegno cruciale anche in questa estate a questa controinformazione, un'informazione complementare, ricordo, che fa completare appunto la prospettiva a senso unico e media principale italiani, NAFO, ultraatlantisti e europeisti. Proseguiranno, apriamo la pagina del ricatto ucraino, non ufficiale ufficioso, ma nei fatti c'è de facto, ma non de jure, sull'energia a Ungheria, soprattutto ma anche a Slovacchia, petrolio, l'oro nero, uralico, russo, l'Ucoil che va a finire in Ucraina e da lì nell'Unione Europea, il fianco est, qui in centro Europa. Proseguiranno le forniture di petrolio, di oro nero, russo, uralico, all'Ungheria, alla Slovacchia, ma non da l'Ucoil, ma da altre tre ditte petrolchimiche russa. Riferirlo a Aleksandr Novak, vice primo ministro di Mosca, ovviamente martedì ieri, letteralmente nella capitale russa, dalla capitale russa. Si sta parlando dell'oleodotto druzba dell'amicizia, Boraccia. Kiev ha bloccato il transito, nonostante l'aumento dei dazi di transizione di 800% circa negli ultimi due anni, soprattutto a paesi come l'Ungheria. Guardate caso, un ricatto quindi politico. Cosa dice al portavoce Ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova? Che l'energia già da molto tempo è diventato un strumento, una clava di manipolazione, di ricatto politico contro i governi conservatori, come quello di Orban Victor, o socialdemocratici, come quello di Robert Fizzo a Bratislava. Nelle mani di Kiev, che è stata sempre di più incoraggiata in questo ricatto, in questo atteggiamento ostile, dall'Occidente più oltransista, guerra fondale fate voi. La tendenza si è rafforzata, dice ancora la russa. La politica estera di Washington si sta tramutando in qualcosa, una specie di terrorismo energetico, dice sempre la Zakharova. L'Ungheria intanto dice di avere ufficialmente, di essere riuscita a raccimolare petrolio da altre fonti, quindi dopo il blocco in queste ultime settimane della parte ucraina di Lukoil, quindi l'azienda russo dell'oro nero. E come dice Siarto, Lukoil sarà rimpiazzata temporaneamente da altre aziende russe. Sostanzialmente c'è solo un cavillo legale per ora, il blocco ucraino è verso Lukoil, non tutto il petrolio russo. Ricordiamolo che questo, l'odotto dell'amicizia druzba, Boracchak non è sanzionato dall'Unione Europea, una deroga voluta con il veto ungherese, soprattutto di Orban Victor, qualcosa come un anno e mezzo fa. Il ministro degli esteri ungherese Siarto Peter ha detto che la soluzione a breve tempo funziona, a breve termine scusate, mentre a medio termine ci saranno dei molti problemi, quindi serve una soluzione fissa, permanente, questo enorme problema che mette a rischio la sicurezza energetica, non solo ungherese ma anche slovacca, due paesi membri dell'UE. Intervista allo stesso ministro degli esteri del commercio estero di Budapest, del governo Fidesz-Orban, che ha da TV, televisione d'opposizione europeista, che sostanzialmente conferma come il governo stia già pensando a diverse risposte durissime contro l'Ucraina in sede europea a Bruxelles. Dal quadro della pace europea o quello per finanziare militarmente l'Ucraina, paradossalmente uno schifo, bloccati all'Ungheria, verranno bloccati ad oltranza 6,5 miliardi di armi e munizioni a Kiev, alle AFU. E di questo ha parlato appunto Siarto alla televisione ATV ungherese locale. Ad una domanda ha risposto così il capo del di Castero Maggiaro. C'è stato un incontro di intenti, una comprensione totale e sincera tra il governo ungherese e slovacco in Unione Europea. Unione Europea e Ucraina hanno firmato decenni fa, anni fa, degli accordi commerciali che non permettono e vietano l'Ucraina unilateralmente di bloccare o limitare il flusso di energia russo, ad esempio, o a zero, eccetera, in generale estero, verso paesi membri dell'Unione Europea. E quindi la domanda, secondo Siarto, la Commissione von der Leyen sarà in grado o no di rappresentare gli interessi dei cittadini europei, di stati membri, contro gli interessi di uno Stato straniero non membro come è l'Ucraina? Domanda retorica. Boko Janos, che è il ministro del governo Orbán Fidesz per gli affari europei. Un'oligarchia europea, Bruxelles e Strasburgo, definirà nei prossimi cinque anni, con la nuova Commissione Parlamento, eccetera, la politica estera dell'Unione, ovviamente. Però, qual è la novità? Che cercheranno di mettere in dubbio, per esempio, l'europeità, parola orribile, del popolo ungherese addirittura. A riferirlo appunto il capo del di Castero ungherese su Facebook, lungo messaggio, come potete vedere, in Foradio, intervista in Foradio. Dice Bokoa, Juncker, Jean-Claude Juncker, la sua Commissione si è definita nel passato, stata riconosciuta per avere un carattere politico interno. I primi cinque anni di Commissione von der Leyen geopolitico e adesso il secondo turno della von der Leyen come una Commissione partitica, di partito politico ideologica, che non vuole collaborare ma escludere tutte le opposizioni come i Patrioti per l'Europa, PFE, nuovo partito di Orbán, Le Pen e Salvini, ad esempio. Si va verso un rafforzamento del senso federalista dei Stati Uniti d'Europa, come vogliono i globalisti europeisti, i NAFO. Frontex deve essere l'Agenzia per il controllo delle frontiere e migrazione di massa, vuole essere trasformata la Commissione in una specie di polizia per i confini esterni europea, unita, che scavalcherebbe per le competenze della polizia nazionale, ad esempio ungherese, ai confini con la Serbia, per creare una specie, dice Bokojanos, di scudo della democrazia democratico europeo che sostanzialmente, tecnicamente, diventerebbe una specie di servizio segreto europeo unito, pericolosissimo per la sovranità nazionale, l'indipendenza dei Stati membri. La Commissione europea vorrebbe sempre di più comandare e mettere le mani sui fondi europei, tutti i fondi europei da destinare agli Stati membri, quindi non fondi suoi ma che arrivano dai contribuenti europei, ricordiamolo. E quindi legherebbe sempre di più la fornitura e il finanziamento ai Stati membri, per esempio i fondi di coesione, Repower You e tutti i nomi globalisti in inglese, a tematiche ideologiche, ad approcci ideologici come sull'LGBT, come sull'accoglienza degli illegali, e via dicendo fino al conflitto ucraino e quindi le sanzioni antirusse. L'Unione europea non sarebbe il gruppo più adatto per il governo ungherese, per l'Ungheria in generale, per il popolo ungherese, questa è la cosa più grave. Dice Elina Waltonen, ministro degli esteri finlandese di Helsinki, un governo di coalizione con a capo una specie di centrodestra, quello che so. La ministra, o il ministro per dirla meglio, ha accusato Orbán Víctor, primo ministro di Budapest, per aver detto, che poi non l'ha mai detto, l'ha sempre negato, pure durante il viaggio, il suo tour mondiale per la pace, beca, missione di pace, ungherese per il semestre di turno nella presidenza del Consiglio europeo, diciamo sempre quello, di rappresentare l'Unione europea, i 27 stati membri nella sua visita, anche a Mosca, anche a Pechino, cosa che Orbán, ripeto, ha sempre, sempre negato. Un primo ministro ha il diritto, legittimato, a fare i viaggi che vuole nel nome del suo paese che rappresenta, è stato eletto e non deve avere ordini da Bruxelles, Strasburgo o Washington. Non si terrà in Ungheria, nella capitale Budapest, l'incontro informale dei ministri degli esteri dei paesi dell'Unione europea a fine agosto. A riferirlo, Joseph Borrej, una decisione simbolica per punire il governo Fidesz Orbán Víctor, perché, questo è il primo ministro Orbán, si è recato a Mosca di incontrare Putin. Dice Borrej, lo spagnolo socialista, bisogna dimostrare e confermare la lealtà ideologica, politica e ingeopolitica a Bruxelles. L'unico proposta di pace, piano di pace accettabile a Bruxelles e negli stati membri deve essere, dice sempre lo stesso rappresentante politico per gli affari esteri dell'Unione europea, è il piano di pace in dieci punti di Zelensky, del presidente ucraino, col mandato scaduto, che vuole sostanzialmente un risarcimento dalla parte russa, il ritiro di tutte le truppe russe dai confini, da dentro i confini del 91 dell'Ucraina, quindi con annesa anche Crimea e Donbass. Irrealizzabile sostanzialmente. La stessa Unione europea, la Commissione vuole costruire una base dati informatica con dentro tutti i dati personali di ogni cittadino europeo asse, cioè conti correnti bancari, poi le case, gli immobili e tutto il resto, gli investimenti, forse anche i bitcoin, quindi gli investimenti meno tradizionali, più virtuali. Lo scrive Focus, giornale tedesco. Per chiudere, la stessa Unione europea che sta zitta e sostiene il governo irlandese, che non ha a cuore per nulla, come dice lo stesso, dicono diversi ministri di Dublino, il volere del popolo, perché il popolo sta protestando in migliaia, in massa, irlandesi, contro l'accoglienza e la costruzione di campi profui, così vengono chiamati in tutto il paese, e l'isola verde. Per esempio, Kulok, nella città di Kulok, l'ho raccontato qualche giorno fa, migliaia di illegali saranno sostanzialmente installati, letteralmente, come si traduce dall'ungherese, in quella cittadina piuttosto povera e piccola, come scrive Major Jelen, testata del partito opposizione a Orban, a destra, Niausank Moskolom, di Toroskoi Laszlo, quindi. Ci dicono i media, commenta questo giornale, Major Jelen, quindi presente ungherese, ci dicono i media e i politici globalisti che non esiste la sost etne, graduale nemmeno, quando le statistiche dicono l'opposto. I media e i politici globalisti che tacciano il razzismo, gli abitanti che protestano questo tipo di misure veramente vergognose, traditrici. Il ministro della giustizia, ad esempio, c'è anche il video, ha detto letteralmente che non interessa al governo il volere del popolo, non interessano i sondaggi, i migranti devono essere accolti anche se la maggioranza o tutta addirittura la popolazione irlandese non lo vuole. Il nostro obiettivo e il nostro dovere è un obbligo, accogliere. I manifestanti si comportano in maniera veramente inaccettabile. Vedete anche il messaggio su X. In un'altra cittadina in una situazione simile si chiama Cantiloth. Una scuola deve essere, secondo il governo, trasformata in un centro d'accoglienza. Le proteste, ovviamente, del popolo, che non può essere chiamato popolo, ma bisogna chiamarlo estremismo e quindi razzismo. O xenofobia, come tacciavano i xenofobia, per esempio l'islamofobia Orban nel 2015-16 in Ungheria, per la situazione al confine con la Serbia, Kerebio, Orgos e tutti gli altri paesini che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli anni. L'Irlanda è guidata ufficialmente da un governo di conservatori liberali e cristiano-democratici. E quindi, come commenta Mody Oriel, chiude questo articolo, non ci sono più vere e proprie differenze sostanziali tra sinistra e destra. Quindi la sinistra fucsia, la destra bluet, come direbbe Fusaro, tra la vecchia sinistra e la vecchia destra. Potrebbero esserci dei tratti comuni per sconfiggere, quindi, i globalisti, tra virgolette al centro nelle aule parlamentari, ma non per questo moderati e non estremisti, come sappiamo bene. Dice Mody Oriel, quindi, nuova sinistra e nuova destra sono comandati dagli stessi signorotti e quindi perseguono gli stessi interessi politici, economici, finanziari, eccetera. Grazie per aver visto questo video al prossimo Tra Italia e Mody Orsag.